Buongiorno a tutti, il direttore del cielo di Tata E' un afferminore che arriva dalla Slovenia, per una uva intima in Venezia Gli applausi sono per la Badai Mokacar Arriva Badai Mokacar E' giusto Dio Badai, il trofeo senza fine Lui mi ha andato a scrivere il proprio nome Il trofeo più bello del mondo Non è uguale questo trofeo Non è uguale questa incredibile cornici a Roma Ancora bravo, libertà del trofeo Sta come l'altro trofeo Tata Epo Kacar Della UAV Memories Ringraziamogli ancora un grandissimo applauso Tata Epo Kacar UAV Memories Ancora bravo per Tata Epo Kacar UAV Memories Gli diamo l'applauso Adei crawl Gacciarda, Daniel Martinez, Garendo Mazda Garendo Mazda, Garendo Mazda, Garendo Mazda Questo è il podo stettare, 970 mesi Signore e signori, vince Garendo Mazda, Garendo Mazda Garendo Mazda, Garendo Mazda Garendo Mazda